Avvocato Verri, lei e l'Avvocato Critella avete presentato una richiesta al TAR per quanto riguarda le persone che sono state fermate a causa dei controlli sulle nostre strade. La situazione è continua perché comunque fino al 3 di maggio c'è questo fermo. Che cosa c'è che non va in questa ordinanza e soprattutto i limiti sono superiori a quelli che dovrebbero essere per il nostro territorio? Noi abbiamo un enorme problema e un grande problema. Partiamo dall'enorme problema. Al cittadino che non presenta sintomi del coronavirus, che non è positivo e che esce da casa, trasgredisce il divieto perché si porta fuori dalla propria abitazione in assenza di giustificati motivi, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Lo Stato gli chiede dei soldi. Dopodiché, in forza di una ordinanza regionale, l'ordinanza della Regione Calabria del 20 marzo 2020, allo stesso cittadino viene imposta una ulteriore sanzione, quella della quarantena obbligatoria immediata di 14 giorni. Si tratta di una sanzione che, nonostante l'etichetta di sanzione amministrativa, di fatto è una pena. Di fratto è una sanzione penale. Nella sostanza si tratta della detenzione domiciliare, che però nessuna Regione può prevedere e nessun ente locale può applicare. Solo lo Stato, si chiama riserva di legge, può prevedere una sanzione di questo tipo, sostanzialmente penale, solo un giudice può applicarla all'esito di un processo. Dunque ci troviamo in presenza di una ordinanza che, dal nostro punto di vista, dal punto di vista mio e dell'Avvocato Cretella, perché insieme abbiamo avanzato questi ricorsi e iniziato questa battaglia, è incostituzionale ed inoltre viola la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo quindi chiesto al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, di dichiarare l'illegittimità di questa ordinanza e di ordinare alla Regione di risarcire i danni ai cittadini. Cittadini che, ripeto, sono colori uguali, vengono fermati, controllati e nei confronti dei quali le forze di polizia elevano la sanzione sia pecuniaria che della quarantena per il solo fatto di aver trasgredito rispetto al divieto di uscire di casa. Tutti dobbiamo stare a casa, ma qualcuno trasgredisce. Questi soggetti possono essere sottoposti ad una sanzione pecuniaria, non dovrebbero essere sottoposti ad una sanzione detentiva o comunque assimilabile ad una sanzione detentiva. Poi c'è il grande problema. Quello era l'enorme problema, questo è il grande problema. Il grande problema, sul quale il TAR si è già pronunciato su nostra sollecitazione, è che questa ordinanza è immediatamente efficace. Parlo dell'ordinanza regionale. Di conseguenza le forze di polizia non possono far altro che spedire il cittadino contravventore a casa. Tuttavia il TAR dice che in realtà egli è libero fin quando non riceve l'ordinanza comunale, cioè del sindaco o del commissario, nel caso del comune di Cronone, che concretizza quella ordinanza, cioè che a valle applica la sanzione prevista a monte dall'ordinanza regionale. Quindi in questo periodo il cittadino è libero. Quell'ordine di andare a casa è un ordine inefficace perché l'ordinanza non è applicabile direttamente ma richiede un ulteriore provvedimento emesso dal comune, dal sindaco o dal commissario. Su questo il TAR in via d'urgenza per effetto del decreto del suo presidente si è già pronunciato, mentre sulle altre questioni ancora più rilevanti evidentemente attendiamo la decisione e in futuro anche la sentenza. Non escludiamo evidentemente di rivolgerci anche alla Corte di Strasburgo perché in questo caso parliamo di violazioni di norme costituzionali e di norme, come dicevo, previste dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 25, l'articolo 13 della Costituzione, gli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.